Allora Serie B, campionato livellato come non mai, dove c'è la corazziata Genoa che sta facendo una risalita importante, sicuramente Gilardino ha dato un'impronta importante, come l'ha data Ranieri al Cagliari, un Cagliari che sembrava spacciato a rimanere ancora in Serie B, invece ha il sesto posto e sta arrivando anche lui a giocarsi la promozione in Serie A. Credo che magari faccia male vedere la spalla così bassa in classifica, vedere il Benevento che sta soffrendo, però è una Serie B di assoluto grande livello che potrebbe dare delle grandi soddisfazioni, secondo me è un campionato importante che può dare tanto e può tirare fuori anche qualche giovane interessante. La Serie B di quest'anno è divertente, vi invito a guardarla e vi invito a dare un'occhiata ai giovani talenti che stanno facendo giocare in Serie B. Andiamo avanti così, forza Genoa, forza Cagliari, la Serie A vi attende, vi aspetta, non possiamo rimanere senza di voi. Quindi in dubbio che c'è un'altra società che ci sta meravigliando che è il Suttirol, squadra che sicuramente ha fatto un grande lavoro in questi anni, ha creato un bellissimo centro sportivo, ha fatto un lavoro di crescita per poter arrivare a questi livelli. Potrebbe essere una realtà nuova e interessante da inserire nel calcio professionistico italiano di Serie A e dare la possibilità di vedere che si può fare un grande lavoro, un grandissimo lavoro anche con piccole società. Bentornata anche a VATS Serie B. Iscrivetevi al mio gruppo, iscrizione gratuita, siete liberi di dire la vostra.